Bella a tutti ragazzi, oggi questo è il mio nuovo video dal vostro mattenere azzurro Oggi ragazzi recap della ventesima giornata di Serie A, al primo di ritorno Se siete ragazzi un bel like, non vi ringrazio il canale che ho avuto ai 250 iscritti Perché sarei molto molto contento Vi mettete un like e condividete il video ovunque Allora ragazzi, dovete partire subito Con un bar sport, diciamo, di quest'ultima giornata di Serie A Partiamo ragazzi dall'anticipo che si è giocato, Polonia-Spezia Dove la squadra Felsinea ha avuto comunque la meglio per 2-0 Contro la squadra Ligure Allora Polonia ragazzi ha giocato molto molto bene Con uno Spezia orfano di Enzolà Lo Spezia ha fatto molta molta fatica E senza l'attacamento angolano Ha fatto vedere ragazzi che praticamente non è squadra È brutto da dire ma non è squadra Perché ragazzi non fa nulla in fase offensiva Non fa nulla, cioè, a centro campo Non fa filtro, non fa niente Gli manca proprio l'inferimento offensivo E Polonia comunque buona prova La squadra comunque è in crescita, è in salute Tiago molto il grandissimo allenatore E almeno 3 soltanto dalla zona Conference League Occupata dall'Udinese Quindi ragazzi, piena corsa europea Possiamo dire in maniera clamorosa Vabbè, per la penalizzazione alla Juve Però ragazzi, molto molto bene Lo Spezia invece deve guardarsi le spalle Perché a soli meno 5 C'è la Las Verona Che ragazzi È da soltanto in classifica C'è la retrocessione Quindi attenzione Lecce-Saranetana Allora ragazzi Lecce-Saranetana ha fatto un colpaccio Perché vince la Via del Mare 1-2 In uno scontro salvezza È veramente veramente importante Il Lecce si è un po' risato sugli alloi Perché Ragazzi Ha fatto molto molto bene con le grandi Poi dopo l'ultimo 2 Ha steccato Ragazzi Far 0 punti Contro Verona E Saranetana Non va bene Ne dovevi fare minimo 3 Minimo la vittoria la dovevi fare Perché comunque sono due squadre Che lottano come te Per la retrocessione E ragazzi Adesso la retrocessione È a meno 7 Quindi attenzione Lecce che rischia tanto Ad adagiarsi troppo Sulle proprie capacità Sulla testa Perché ragazzi Ci sono due sconfitte Che non devi fare Secondo me Ci sono un pochino Troppo addormentati La Saranetana invece Fa una vittoria Scacciacrisi Dopo 8 vittorie 8 pariti Senza vittorie Tra cui 2 pareggi 6 sconfitte Quindi ragazzi Esce dalla crisi Momentaneamente Con una grandissima prestazione Fuori casa Di carattere Di tanta tanta voglia E Per me ragazzi La Saranetana comunque Va a più 1 dal Lecce A più 8 dalla zona Trocessione E secondo me In questo momento Sta molto meglio Del Lecce Visto che comunque Questa vittoria Gli dà tanta tanta fiducia E un po' il torino 2 a 2 Allora ragazzi Sfira Anche qui possiamo dire Conference League Perché entrambe le squadre Erano lì Cioè sono ancora lì A meno 3 Era la zona conference Dell'Udinese Entrambe appagliate 26 punti Buonissimo campionato Per entrambi Assoluto per l'Apoli Ragazzi Una vera sorpresa Di questo campionato Che qui ha buttato via Un po' la partita Perché 2 a 0 Da 2 a 0 2 a 2 Poteva far meglio Poteva gestire meglio La partita Perché ha preso due gol Negli ultimi 15 minuti Poteva ragazzi Essere in zona conference Appagliata L'Udinese Però ragazzi Si può stare Ha fatto un ottimo primo tempo Secondo anche L'ha interpretato bene Poi dopo ragazzi È calata nel finale Buonissima La zona del Torino Che ha fatto due gol Realmente Ne fa Poche volte Fa due gol Attacco molto sterile Bravissima Ribaltaro Con i cambi Miran Su che Sanabria Bravissima Bravissima 2 a 2 Comunque Bella partita E Cremonesi Inter Ragazzi La mea Inter Riesce a sbancare E Cremones rimonta Con la Cremonesi Che ragazzi Inizia a venire Con un gol Pazzesco di Ocreka E poi ragazzi La ribalta Lautaro Con un gol Nel primo tempo Con un'autopietra Da cinetica D'attaccante No Da fuori classe Vero ragazzi Proprio della sua classe E La Cremonesi Ragazzi Deve essere sempre più ultima A 8 punti A meno Addirittura 10 Dalla Spezia Quarto ultimo In zona salvezza Quindi la salvezza Si fa molto molto difficile In Copitalia Stava facendo benissimo In semifinale Dove essere inizia La Copitalia Ragazzi Andrebbe nella nuova league Però In campionato Ormai L'avevo quasi spacciata 90% Andrà giù Perché C'è veramente Una clamosa di munta Che ragazzi Faccio fatica A prevedere Visto che Comunque Molte volte Ragazzi Mi da faccio Tra squadre Che perde sempre Di misura Io penso che Su La Fanta 0 Vittoria Quello è clamoroso 8 pareggi 12 sconfitte 10 secondo me Mi sembra che Le ha fatte Di misura 1-0 2-1 3-2 Quindi sono anche Sfortunati Però ragazzi Lì si vede La mancanza Di esperienza In questa categoria Comunque 1-2 Spero che si riprendano Perché giocano bene La Mentre Invece comunque Va avanti Va al secondo posto Atalanta Sampdoro 2-0 Poco da dire Ragazzi Cercello Si aspettava Abbastanza facilmente L'Atalanta È in ottima forma Sta giocando Un ottimo calcio Lukman È sugli scudi Ragazzi In questo momento Vince E stravince La Sampdoro Invece fa sempre Più fatica 9 punti Meno 9 Dalla zona Spezia Dalla zona Salvezza Anche poi La Sampdoro Ragazzi Fa fatica Perché non gioca Non riesce proprio A giocare a pallone Non fa gol Non puoi fare 8 gol In 20 partite Cioè io penso Che sia un dato Più clamoroso Dalla storia Della serie A Realmente incredibile 2-0 Poco da dire Poco da fare E Milano Sassuolo Ragazzi 2-5 2-5 Questo ragazzi Da dire Il Milano È in caduta libera Dal pareggio Contro la Roma Negli ultimi 5 minuti Il Milano È stato a sbandare È stato quello L'episodio Che ha cambiato La zona del Milano Che l'ha rovinata Possiamo dire Perché ormai Ragazzi Addirittura Devo entrare anche In Champions Questo momento è quarto Ma Ci sono appiccicate La tante La Roma Quindi sono lì Perde con l'Inter In Copitale Perde con il Lecce Perde la scorsa 4-0 Contro la Lazio Pareggia con la Roma In caduta libera Ci sono state dando La svegliata Così è l'attività Di uscire dalla Champions Sassuolo Ragazzi che dopo Un giorno d'andata A dir poco vergognoso Con un rischio Di retrocessione Poi una vittoria Importantissima Contro il Milan Solito Berardi Show contro i rossoneri 2-5 Comunque poco da dire Sassuolo clamoroso Non si sarebbe mai Aspettato a nessuno Una prestazione del genere Da parte del Sassuolo Juventus Monza Che qui ragazzi Disastro totale Della squadra Bianconina Allenata da Maximiliano Allegri Che perde 0-2 In casa con Monza Tutti e due gol Nel primo tempo La Juve che Approccia bene La partita Ma prende due gol Negli ucci due tiri In porta Della squadra Allenata Da Palladino Che aveva iniziato Contro la Juve La vittoria Ragazzi Torna la vittoria Anche al ritorno Nel secondo tempo Ragazzi Di Gregorio Sarà in catena Con delle parate Miracolose L'evento ragazzi Ha avuto il tredicesimo Visto i 15 punti Di penalizzazione Scavalcata proprio dal Monza Che va a undicesimo E quindi ragazzi Ci fa bella Che la rosa Lì in mezzo In mezzo alla classifica Lazio Fiorentina Ragazzi Bella partita 1-1 La Lazio come sempre Viste il primo tempo Ma non si fa rimontare Cioè da 1-0 1-1 Con una prodezza Di Nico González Dopo il gol iniziale Di Casale Su un'azione Di calcio d'angolo E Non ha dato comunque Che Buonissima forma Terzo del campionato E Avesse vinto C'è parla di 2 seconda Sta facendo un ottimo cammino E ragazzi Con questo attesamento In Champions Secondo me Ci vanno Come ho praticato Io in questo anno Bene così La Fiorentina Invece il 12esimo Ormai Ha abbandonato Cioè Può rincorre l'Udinese Per grazia divina Che la Juve Gli ha dato la penalizzazione Ma ci ha considerato così Non entreranno secondo me Neanche Goffresnik E Napoli-Roma Ragazzi 2-1 Ma in questo Napoli Infermabile C'è poco da dire 20 partiti 17 vittorie Dopo la legge Una sconfitta Penso sia un dato Un dato veramente Impossibile Da replicare Per i prossimi 40 anni Strepitoso Gimè Strepitoso Segna ancora Con una prodezza balistica Glamorosa Poco da dire La Roma ragazzi Un partitone Si metteva il pareggio Assolutamente Alla fine ha perso Però con dignità Si giocano così In Champions Naturalmente loro Però bisogna vedere Napoli Sempre più lanciato Più trezzi Dalla seconda Che è l'Inter Veramente In chiudibile Udinese La Sverona L'ultima partita Come ho detto Anche nel video Post partita Udinese Come si metteva la vittoria Per le tante occasioni Creati Con Montipò E Magnani Che hanno salvato Comunque il risultato Un Udinese Comunque che Gioca a calcio Gioca a pallone Dopo la vittoria Con la Sampa Preso fiducia Un Udinese Comunque È in netta ripresa Nell'ultima cinque Ha fatto due vittorie Due pareggio Sono sconfitte Con l'Inter A San Siro Quindi è ripresa E niente ragazzi Questo Secondo me Alla fine L'Udinese In questo momento È stata la compra Quindi benissimo E L'Udinese Verona Segue È solo i più cinque Ragazzi Da domani Salvezza Comunque Tutto aperto Questo ragazzi Il mio video Facciate un commento Cosa ne pensate Nel prossimo Video Alla fine